Nainggolan, meno 15 alla Juve e sapevo che c'era qualcosa. Intervistato da Radio Gol, l'ex centrocampista di Roma Inter, Radia Nainggolan. Ha parlato a tutto tondo della Serie A attuale, partendo dal caso della Juve e dalla condanna a 15 punti di penalizzazione combinata dalla Corte Federale d'Appello della FIGICI per il caso Plus Valenze, ecco cosa può succedere ora, meno 15 alla Juve. Alla fine ho sempre provato a vincere contro i più forti. Ma come vedi c'era qualcosa che è uscito fuori in un momento inaspettato. Il mio rientro in campo, per ora faccio un nuovo tatuaggio Nainggolan ha parlato anche del Napoli capolista e del suo allenatore, Spalletti. Gli auguro di vincere lo scudetto che non ha vinto in passato. Io con lui mi son sempre trovato bene, lo sento ancora oggi, è un uomo che mi ha dato tanto. A Napoli sta sfruttando i giocatori nel modo migliore, si vede che gli azzurri sono molto uniti e di conseguenza molto forti. Il mio ritorno in campo. Adesso sto facendo un tatuaggio, anche se di spazio libero ne ho poco. Virgola.